La proposta di legge di revisione statutaria della Regione Toscana con 24 voti favorevoli DPD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, Contrari, Fratelli d'Italia, Talaviva e Gruppo Misto, non partecipano al voto il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani e la Lega. Due sospensioni hanno caratterizzato il dibattito piuttosto acceso in aula sulla seconda lettura della proposta di legge di modifica statutaria che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della Regione. Alla fine l'Aula approva la riforma con 24 voti a favore DPD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, Contrari, Fratelli d'Italia e Talaviva e la consigliere Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Non partecipano al voto la Lega e il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio che lo statuto come tutte le regole del gioco bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia che alla prima votazione avevano votato favorevolmente, stamani mi hanno comunicato alle 10, prima Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato e quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto e anche questo mi ha sorpreso nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula, voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12 mentre stavamo votando. Quindi nessun cambio di maggioranza, la maggioranza è perlomeno dal mio punto di vista è solida con Italia Viva, è evidente che il Movimento 5 Stelle dopo il voto sui grandi elettori ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Vedo purtroppo, e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale, una grande frammentazione nel centro-destra, una grande frammentazione che spero possa essere recuperata perché noi abbiamo bisogno di far funzionare il Consiglio, non di continuare una perenne campagna elettorale dentro le coalizioni perché non serve a nessuno. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della Giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi ribadisco questo, lo faccio non soltanto per questo profilo ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto così come voluta dal Presidente della Giunta regionale che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento deve avere un senso anche oggi e siccome oggi questa riforma dello Statuto oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza quei costi ci saranno e saranno importanti collegate soprattutto alle strutture e al personale e allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di Presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della Presidenza dell'Aula. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto di non aumentare i costi almeno dal punto di vista delle indennità sull'eccitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di Presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni. Ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. Noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa. Abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti di spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa in un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Abbiamo chiesto di fermarsi, abbiamo chiesto di fare le cose tutte insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti ma nel contempo è coerente della nostra battaglia. Questo nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile perché, lo ricordo, giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. Poi il PD è tornato e ha voluto votare e allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche l'UMI sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. La modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose, che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze. Per esempio l'allargamento dell'ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla, perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di Presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in Aula e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il Presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto. A quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria sulla quale siamo impegnati, da un lato sulla crisi pandemica, che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica, che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno. L'abbiamo immaginato come una legislatura che mettesse e riordinasse lo Statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Abbiamo cominciato proprio sei mesi fa con la modifica dello Statuto, che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza, perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché, rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di Presidenza, una maggior rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare, perché comunque è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Da oggi Forza Italia comincerà a lavorare anche su quel regolamento. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani, perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di Presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale, che invece spetta a ciascun consigliere. Al contrario, si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori Fimer, della Laica, dell'ortofrutticola di Marradi, della GKN, tante crisi aziendali. E oggi noi mettiamo in scena in quest'Aula uno spettacolo che io non esito a definire squalido ed irrispettoso nei confronti dei toscani.